Daniela sto male, soffro, ho bisogno di una relazione, ho bisogno di una donna, tutti i miei amici hanno la fidanzata, io no, tutti i miei amici sono felici, io no, i miei genitori mi dicono che dovrei avere la ragazza ma non ce l'ho, ok, e qual è il motivo? Eh, il motivo è che sono brutto, il motivo è che non ho il bel fisico, il motivo è che non sono ricco, non ho un buon lavoro. Ok, quindi, secondo questa teoria, tutte le persone che non sono ricche, non hanno un bel fisico, un bel viso, un buon lavoro, non dovrebbero essere fidanzate. Guardiamoci un po' intorno, è vero? Non mi pare, non mi pare affatto. Mi pare abbastanza ovvio che il motivo principale per il quale le persone non si fidanzano non siano i soldi e l'estetica, no? Perché se fosse così tutte le persone povere e brutte non sarebbero fidanzate. Quindi non è quello il motivo. Perché spiego questo? Perché quando una persona deve rivolgersi a un'altra in fase di approccio, che è poi questo di cui parla Classroom Attitude, la ragione principale per la quale spesso si frena è che pensa di non avere le qualità, le caratteristiche per poter approcciare una donna in questo caso. Ecco, le qualità, per quanto i soldi e l'estetica possono avere un'importanza, io non ho mai detto il contrario e lo spiego anche in Classroom Attitude, ma non sono la ragione principale. Infatti in Classroom Attitude spiego proprio quali sono le caratteristiche che servono per andare più sicuri all'approccio. Però questo video viene un po' prima e cerca di farvi capire una cosa. Ovvero che sì, queste qualità sono importanti, ma non sono indispensabili ed è logico. Perché se fossero indispensabili, se fosse così, che solo le persone belle e ricche possono avere una compagna, allora ripeto, sarebbero fidanzate solo quelle. E poi perché si dovrebbero andare a fidanzare con le persone povere e brutte? Quindi, secondo questa teoria, pure le donne povere e brutte non sarebbero fidanzate, perché magari una persona di qualità dovrebbe andare a scegliere un'altra persona di qualità. E invece il mondo, per fortuna, non funziona così ed è sotto gli occhi di tutti. Ci sono, indubbiamente, delle altre caratteristiche che portano un uomo a interessarsi a una donna e una donna a interessarsi a un uomo. Oppure voi, se non sono ricche, realizzate e non sono super fighe, voi non le volete. È così che funziona il vostro modo di approccio? Non credo. Quali sono le persone che sostengono che le donne vogliono solo gli uomini belli e ricchi? Innanzitutto quelli che non sono né belli né ricchi. Ma a parte questo, le persone, gli uomini che sostengono che le donne vogliono solo gli uomini belli e ricchi, sono le persone, rullo di tamburi, che non vogliono prendersi responsabilità. Ah, quelle. Perché ci sono anche uomini non belli e non ricchi che non si lamentano, che non passano la vita a trovare la giustificazione, che non passano il tempo a cercare di convincere il mondo di quanto siano brutti e cattivi gli uomini belli e ricchi e di quanto siano brutte e cattive, stronze e maledette le donne che invece vogliono gli uomini belli e ricchi. Tra l'altro ci ho già fatto un video su YouTube che spiega proprio questo, ma nel dettaglio mi voglio concentrare su un'altra cosa, sul fatto che la parte principale qui in questo gioco, in questo gioco di scambi, è che chi cerca scuse, spiegazioni per il proprio insuccesso, parallelamente, dall'altra parte, non sta lavorando per il proprio successo. Perché anziché usare le energie per dire vediamo cosa posso fare per stare meglio, usa le energie per vedere quali sono i problemi degli altri, quali sono i problemi che non dipendono da lui, per giustificare il proprio insuccesso. Facciamo finta, ok, ve la spiego proprio in modo semplice, tipo la torta, no? Facciamo finta che ci sia la torta 100% di energie, togliamo quelle per mangiare, per lavorare, per pensare ad altre cose, no? Magari quelle, che ne so, pratiche, burocratiche. Abbiamo un rimanente, che ne so, 20-30% di energie, e 50%, non lo so, dipende quanto siete impegnati. Con questo restante pacchetto di energie, cosa ci fate? Usate tutti i vostri pensieri, il vostro tempo e le vostre energie per stare meglio, per fare quello che vi piace, per avere dei rapporti belli, sani, sereni, costruttivi? Fate questo? No, non fate questo. State tutto il tempo a vedere quella persona si è comportata male, è stata cattiva, io, poverino, quanto sono poverino a fare le vittime, e gli altri così, e il mondo funziona male, e le persone ti vogliono male, nessuno mi vuole bene, nessuno mi apprezza, la colpa è di miei genitori, la colpa è di quella persona che quando ero piccolo mi ha bullizzato e mi ha trattato male, la colpa è della mia ex che mi ha lasciato, che mi ha fatto questo e quell'altro, povero me, ma non vi siete rotti il cazzo di fare sta vita? Cioè, vi voglio veramente tanto bene per dirvi questo, perché vi sto dando una chiave di lettura che vi serve, ma non vi siete rotti le palle di trovare le giustificazioni per stare male? cioè, è proprio antitutto, cioè, bisogna proprio essere scemi per fare una cosa del genere, sto male e ho un tot di energie e le uso per giustificare il mio star male e per dar la colpa agli altri, e cosa risolvo così? mi spiegate cosa risolvete in questa maniera? voglio saperlo, perché se risolvete qualcosa lo faccio anch'io! Giuro! vengo dalla vostra parte, comincio a lamentarmi tutto il giorno, così ci sarà una soluzione, mi dite che cosa, me lo scrivete per piacere, che cosa risolvete quando vi lamentate, trovate delle giustificazioni alla vostra sofferenza, delle giustificazioni al fatto che le altre persone si comportino male, che il mondo faccia schifo, e che voi non meritiate amore e riconoscimento, la gente vi ama di più in questo modo? ma ditemelo, perché se vi ama di più lo faccio anch'io! non succede questo! non so se sarebbe bello se succedesse, ma non succede, per fortuna! credo! quindi non si possono usare queste energie per fare altro? per fare le cose che ci piacciono? per trovare il bello nelle cose, nelle persone? per fare cose costruttive, che ci facciano stare meglio? ma non per fare le cose costruttive lamentandosi del povero me perché sto facendo queste cose, mi piacerebbe farle con qualcun altro, non è giusto che non le possa fare con la mia ex perché quella stronza mi ha mollato, bla bla bla, no, proprio veramente fare cose belle, ma poi voi che cazzo ne sapete di cosa è giusto per gli altri? perché poi la gente che mi viene a dire, questa cosa è divertente, la gente che mi viene a dire, ah non è giusto perché la mia ex ha fatto questo e quest'altro, se n'è andata, mi ha lasciato, ma perché non è giusto? ma magari la sua vita, il suo percorso di vita vuole questo, ma chi dice che non sia giusto? e magari il tuo percorso di vita ti dice proprio questo, che forse devi fare altro, devi trovare un modo per stare meglio con te stesso, che non significa che tu debba stare da solo, perché io non ho mai detto che si debba stare da solo, significa solo che magari puoi trovare il bello anche in altre cose, non solo nel dipendere emotivamente e fisicamente da un'altra persona, no? quindi il mio consiglio spassionatissimo è rifletti su queste cose, e poi se vuoi fare qualcosa e ti servono i passi, gli steps per andare avanti, per capire cosa fare, per capire come sbloccare la voglia di andare all'approccio, per capire come sbloccare la voglia di conoscere una persona, allora segui Class of My Attitude, che ti spiega esattamente questo, ma prima prendi una decisione con te stesso di smettere di lamentarti, e di fare qualcosa di utile, per la tua vita, oppure vuoi arrivare a 90 anni che sei ancora lì che ti lamenti, non hai avuto nessuno, non ti ha cagato nessuno, io non penso che sia questo che vuoi, quindi basta con questa lamentare, fai qualcosa, qualsiasi cosa, ah non so come fare, te lo spiego, ti spiego come fare, c'è Class of My Attitude, te lo spiego, ci sono mille e mille corsi che ho fatto dove lo spiego, ci sono miliardi di libri nel mondo che lo spiegano, non è mancanza di informazione, è mancanza di voglia di prendersi delle responsabilità, allora ti sta bene, se non ti vuoi prendere la responsabilità della tua vita, e la tua vita fa schifo, no? Oppure ti prendi la responsabilità e la tua vita cambia, it's up to you, come dicono gli inglesi. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto, e clicca sulla campanella per attivare le notifiche, in modo da ricevere i nuovi video pubblicati, condividi anche questo video con tutti gli amici che pensi che possono essere interessati a questi contenuti, ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette Facebook che sono contenuti all'interno del mio gruppo Vero Uomo, crescita personale e relazionale. Inoltre ti ricordo che nel mio store, al link www.verouomo.it trovi tutti dei percorsi, dei video, audiolibri, videocorsi, e un sacco di contenuti che ti possono aiutare a migliorare, a crescere e ad avere delle relazioni più belle, sane e soddisfacenti. Ti aspetto all'interno dei miei canali. Grazie a tutti.